www.infotech.it Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia, nella refrigerazione industriale. Decisi a Rimini, dopo la maxi-indagine della Guardia di Finanza, si vuole fare luce su una ipotetica evasione da 37 milioni. Gli operatori ci sperano decisivo l'incontro a Roma tra Bagnini e governo. In arrivo una legge di riordino sulle concessioni demaniali. La discarica va in Parlamento. Nuove polemiche attorno al noto impianto del Limolese. Il Ministero conferma poi rettifica l'inquinamento delle acque sotterranee. Plautus al Via. A Sarsina tutto pronto per l'edizione 2016 della nota Kermess, che porterà all'Arena Plautina tante manifestazioni e big dello spettacolo. Cavallo di ritorno per il basket, presentato Simone Pieric, che torna a vestire la maglia dell'Unieuro Forlì dopo dieci anni vissuti in giro lungo lo stivale. E poi tutti ancora una volta. Buonasera dalla redazione di Teleromagna. È partito in corte d'assise a Ravenna il processo contro il secondo merendi. Il 58enne è accusato di aver strangolato la madre 81enne nell'aprile del 2015 a Cotignola. Vediamo tutto. È accusato di aver ucciso a Cotignola nel Ravennate nell'aprile del 2015 la madre 81enne Pierossini e ieri ha iniziato davanti alla corte d'assise di Ravenna il processo per omicidio volontario. La Procura della Repubblica ha formalizzato per il 58enne secondo merendi l'accusa di omicidio della donna trovata strangolata con la cintura di un accappatoio nella propria abitazione. E al Tribunale Ravennate sono stati ascoltati i primi testimoni dell'accusa che era rappresentata in aula dal pubblico ministero Stefano Stargiotti e sono stati ascoltati i carabinieri della stazione di Cotignola e gli operatori del 118, le prime persone ad arrivare sul luogo del delitto. Ricordiamo che all'inizio della vicenda era stato ipotizzato anche il suicidio della donna, ma le modalità erano da subito apparse improbabili e a sollevare i dubbi c'era anche la scomparsa di denaro che l'anziana teneva in casa. Sin dall'inizio era stato aperto un fascicolo contro i gnoti e i carabinieri, coordinati dal procuratore Alessandro Mancini e dal sostituto Stefano Stargiotti, avevano ascoltato tutte le persone che potevano sapere qualcosa della vita della vittima e dell'accusato e allora emersi che il figlio, disoccupato, avrebbe avuto problemi economici, in parte legati al vizio del gioco che sembra avesse da tempo e spesso attingeva denaro dal conto della madre che era invece titolare di due pensioni. E ancora cronaca, dal nostro portale TR24.it si è suicidato a pochi passi dal centro di Russi, un anziano di Ravenna è stato trovato morto questa mattina all'interno della sua auto poco dopo essersi sparato, a dare l'allarme un passante che ha notato le macchie di sangue nella vetrata della vettura. Secondo una prima ricostruzione pare che l'uomo si sia sparato al volto con un fucile da caccia. Quando i sanitari sono arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Per le indagini del caso sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ravenna. 37 milioni di euro evasi al fisco e 24 persone rinviate a giudizio. L'inchiesta a Machiavelli della Guardia di Finanza di Rimini continua a produrre risultati. 24 le persone a processo con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata all'evasione di IVA e utilizzo e dimissioni di fatture false. L'indagine della Guardia di Finanza di Rimini denominata Machiavelli partì nel 2011. L'attività investigativa dell'Agenzia delle Dogani in collaborazione con le Fiamme Gialle ha permesso di scoprire che l'associazione avrebbe commercializzato prodotti di telefonia ed elettronica utilizzando società che simulavano vendite e acquisti di merce secondo il cosiddetto Carosello. Questo sistema prevede il transito dei beni da società italiane a società estere e successivamente il passaggio a più aziende italiane attraverso società cartiere che non versano l'IVA permettendo la vendita dei prodotti a prezzi vantaggiosi. 37 milioni di euro che sarebbero stati evasi in tutto al fisco. Giovedì mattina tutte le 24 persone indagate sono state rinviate a giudizio per aver preso parte di un giro d'affari dedito all'evasione fiscale transnazionale attraverso l'emissione di fatture false per operazioni inesistenti. A San Marino sono sette le aziende che risultano coinvolte. E si è aperto ieri a Rimini il processo a carico di due calciatori accusati di violenza sessuale, sequestro di persone e rapina. I fatti risalirebbero ad una notte d'estate del 2013 e la presunta vittima sarebbe una donna oggi di 38 anni originaria di Carpi. Secondo il racconto di quest'ultima, dopo una serata in discoteca i ragazzi l'avrebbero violentata nella loro villa nelle colline riminesi e poi lasciata in mezzo ad una strada di campagna in piena notte. La donna sarebbe poi stata soccorsa da un'automobilista di passaggio. La carpigiana in compagnia di un'amica avrebbe conosciuto i due calciatori in un locale notturno. Il PM ha chiesto di sentire altri testimoni e l'udienza è stata fissata a gennaio del 2017. E disavventura invece a Ravenna per un commerciante di origine cinese. Torniamo sul nostro portale TR24. Nel tardo pomeriggio di ieri un cerveze del 64 con numerosi precedenti penali si è introdotto in questo esercizio commerciale di cui vediamo una foto che si trova nei pressi dei giardini Speyer allo scopo di rubare della merce. Il negoziante se ne è subito accorto invitando l'uomo a sedersi e a restituire il maltolto. Di risposta il malvivente è scappato, rincorso sia dal titolare sia anche da alcuni magrebini della zona che accortisi di quanto accaduto si sono scagliati contro il cerveze malmenandolo. All'arrivo sul posto i carabinieri hanno trovato l'uomo fermo, dolorante, che dopo un passaggio in pronto soccorso è stato arrestato. si indaga per dare nomi e cognomi ai magrebini autori di questa aggressione. E cambiamo argomento. Torniamo a parlare della direttiva Bolkestein di concessioni balneari. Ieri a Roma si è svolto un vertice tra le categorie e il governo. Gli operatori quindi ora sperano in una soluzione positiva. Sentiamo. La sentenza della Corte di Giustizia Europea sulla direttiva Bolkestein è attesa per metà luglio, ma intanto ecco che dal governo arriva la legge di riordino istituzionale in materia di concessioni balneari. Lo scopo di quest'ultima è quello di riconoscere il valore di impresa e un adeguato periodo di transizione prima dell'entrata in vigore definitiva che avverrà molto probabilmente nel 2017. E quanto è emerso giovedì mattina a Roma durante l'incontro fra le rappresentanze sindacali del mondo dei balneari e il ministro per gli affari regionali e le autonomie Enrico Costa. Sul tavolo la condivisione di un percorso che tuteli le imprese balneari italiane, quindi gli imprenditori e gli occupati. Finalmente si è imboccata la strada giusta, commenta il presidente di Oasi con fartigianato Giorgio Mussoni. Il ministro ci ha infatti rassicurati i suoi passaggi fondamentali che saranno affrontati dal governo. Due in sostanza. Il primo è che la legge di riordino della materia ademaniale riconoscerà il valore dell'impresa, quello della professionalità di chi l'ha saputa sviluppare. Il secondo è che prevederà un periodo di transizione prima della sua applicazione. La definizione della legge richiederà del tempo e per evitare un vuoto legislativo il governo promulgherà un provvedimento per colmarlo. Fondamentale è il supporto degli onorevoli riminesi Sergio Pizzolante e Tiziano Arlotti che hanno presentato due emendamenti al decreto enti locali in discussione alla Camera riguardanti l'uno le attuali concessioni, l'altro i pertinenziali, ossia coloro che hanno attività su terreno demaniale. E tornano ad accendersi le polemiche attorno alla discarica a Tremonti di Imola. La relazione diffusa dal ministro dell'Ambiente Galletti ha evidenziato che le acque sotto il sito sono inquinate. Ancora area di tempesta sulla discarica a Tremonti di Imola. Il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti rispondendo a un'interrogazione della senatrice di Forza Italia Anna Maria Bernini ha affermato infatti che le acque sotterranee al sito sono contaminate da perdite di percolato. L'intervento del ministro ha incendiato il dibattito attorno alla discarica. Sull'amministrazione comunale imolese e sulla regione, che vorrebbero ampliare la Tremonti, sono piovute critiche accuse dalle associazioni ambientaliste e da diversi fronti politici. In primo luogo Forza Italia e Movimento 5 Stelle, che da tempo si oppongono all'allargamento della struttura, invocandone anzi in alcuni casi la bonifica. La regione sei mesi fa negò la contaminazione delle acque, ha affermato il consigliere regionale grillino Giulia Gibertoni in una nota. Il progetto di ampliamento deve essere subito bloccato. Nella sua relazione Galletti precisa che, secondo gli studi di ARPA, la qualità dell'aria intorno al sito non sarebbe invece compromessa da sostanze pericolose. Il ministro ha quindi demandato la decisione sulla discarica alla conferenza dei servizi alla regione. Per fare ciò serviranno ulteriori approfondimenti in merito all'impatto ambientale della discarica e alle conseguenze sulla salute degli abitanti. E sempre su questo, poche ore fa, il Ministero dell'Ambiente ha integrato le informazioni in merito alla situazione dell'impianto. Le perdite di percolato da alcune vasche presenti nell'area della discarica Tremonti di Imola, già segnalate nell'ottobre scorso, si legge in una nota, non sono state tali da comportare la contaminazione delle acque superficiali del rio Rondinella. Questo perché, come è chiarito dall'ARPA Emilia Romagna, sono contenute in strati argillosi con velocità di deflusso pressoché nulle. Sono comunque già state per tempo attivate dalle autorità locali le misure necessarie per la rimozione delle sorgenti dell'inquinamento e la bonifica definitiva dell'area. E cambiamo argomento con la prima seduta del Consiglio Comunale di Ravenna che si è aperta con polemiche e discussioni nella gremita sala di Palazzo Merlato. Eravamo presenti con le nostre telecamere, vediamo com'è andata. Giuro di osservare veramente la Costituzione italiana. Questo è il giuramento del Sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, nella prima seduta del Consiglio Comunale che è stato animato da toni accesi e numerose polemiche, a partire dal luogo in cui devono sedere Sindaco e Vice-Sindaco tra la Giunta e non nelle poltroni più alte, come richiesto dal Varon Cisi e Maurizio Bucci dell'opposizione e accettato dal primo cittadino e dal Vice. La seduta è stata aperta dal consigliere anziano Livia Mulducci e al primo punto dell'ordine del giorno c'è stata la valutazione positiva degli eletti e la loro condizione di elegibilità. Gli animi si sono poi scaldati sul nome del Presidente proposto dalla maggioranza, ovvero Livia Mulducci, già Presidente del Consiglio Comunale nell'ultima giunta Matteucci. L'opposizione ha subito manifestato parire negativo attraverso le parole di Alvaro Uncisi di Lista per Ravenna che ha sottolineato come la candidatura esprimesse continuità col passato e non avesse svolto la Mulducci un lavoro positivo in passato. E al termine del dibattito la candidata è stata letta Presidente del Consiglio Comunale di Ravenna con 20 voti favorevoli, 11 contrari e 2 astenuti. Per il momento non è ancora invece stato deciso il nome del Vice che dovrebbe arrivare nella prossima riunione del Consiglio Comunale. E intanto il bilancio della Regione Emilia-Romagna ha ricevuto l'ok da parte della Corte dei Conti. Il bilancio della Regione supera a pieni voti il controllo della Corte dei Conti. Sono diversi gli obiettivi centrati dall'amministrazione dell'Emilia-Romagna nel 2015 che hanno ricevuto il plauso dell'ente a cominciare dal rispetto del pareggio di bilancio sia previsionale che di rendiconto. Rispetto al 2014 l'indebitamento è stato ridotto di 55,6 milioni di euro e nonostante questo dato sono stati destinati ai territori 126 milioni grazie ai patti di solidarietà a vantaggio di comune e province. Il tempo medio di pagamento dei fornitori rimane al di sotto dei 28 giorni e sono stati centrati, come comunica la Regione, rilevanti obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento delle società in house ossia quelle aziende pubbliche il cui capitale è detenuto in toto o in parte dall'ente locale. Una buona notizia anche per i cittadini che non hanno visto aumentare le tasse regionali. Al contempo è stata ridotta la spesa pubblica al di sotto dei limiti fissati dalle leggi sulla spending review che riguardano voci di bilancio a volte gravose come consulenze per studi e ricerche piuttosto che costi per il personale sanitario. Nel 2015 abbiamo puntato su un bilancio ambizioso ha commentato l'assessore regionale Emma Petitti cofinanziando i fondi strutturali europei accompagnando la fase di riordino istituzionale consolidando gli interventi sullo Stato sociale e ancora rilanciando le spese per la cultura e lo sport favorendo la competitività del sistema produttivo e le imprese investendo contro il dissesto idrogeologico per le infrastrutture viarie e per il trasporto pubblico. Presentazione riminese per l'edizione 2016 del Meeting che andrà in scena quest'anno dal 19 al 25 agosto prossimi come di consuetudine tanti gli ospiti illustri attesi provenienti da tutto il mondo. Tu sei un bene per me e questo è il titolo della 37esima edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli di Comunione e Liberazione che si svolgerà come di consueto a Rimini dal 19 al 25 agosto. La settimana di incontri, spettacoli e mostre alla Fiera di Rimini vedrà succedersi le personalità più influenti del panorama internazionale e nazionale a partire dal capo dello Stato Sergio Mattarella in occasione dei 70 anni della nascita della Repubblica. L'uomo e le sfide del mondo odierno saranno il filo conduttore dell'evento. In un mondo in cui tutto appare come conflitto, violenza, lotta stiamo ridicendo quello che il cuore dell'uomo desidera. Tu sei un bene per me l'altro che ho davanti è un bene per me bisogna scoprirlo, bisogna verificarlo è un percorso da fare ma è una certezza. Gioele Dix, lei al Meeting di Rimini porta uno spettacolo su Renzo Marotto un suo amico di cui ha voluto per tanto tempo raccontare la storia che ha scelto appunto questa occasione per poterlo fare. Sì, nasce da un incontro molto bello con Otello Cenci che è il direttore artistico del Meeting che ha appreso questa storia mia personale privata è una grande amicizia interrotta purtroppo questo mio amico che è scomparso ho deciso di raccontare in uno spettacolo che è una specie di confessione non è funeraria come cosa non è una celebrazione è un racconto una specie di autocoscienza nella quale si ride anche perché la vita la vita è ridere anche c'è bisogno di farlo anche nei momenti difficili anche un attimo prima del baratro. E' un altro grande evento è il Plautus Festival di Sarsina che parte ufficialmente domani già la prima manifestazione è decisamente molto particolare. Primo appuntamento per il Plautus Festival il sabato 9 luglio al Foro Romano le orazioni con Jacopo Costantini. Sì, anche quest'anno cominciamo il festival insieme alla festa romana quindi abbiamo deciso di mettere assieme questi due eventi per far sì che poi siano da traino l'uno per l'altro. Abbiamo cominciato lo scorso anno a costruire questo percorso insieme alla Proloco di Sarsina quest'anno ripetiamo l'iniziativa Jacopo Costantini, l'attore che ha vinto il premio Plauto due anni fa partecipando appunto al laboratorio dedicato a tutti i professionisti che vengono a Sarsina a confrontarsi con Plauto. Sarà affiancato dalla sua fidanzata che è una cantante lirica coreana che si chiama Ji Kim e canta al Metropolitan di New York e l'idea appunto è quella di raccontare al Foro Romano di Sarsina le orazioni di Ciccerone e a dimostrare che passati quasi duemila anni di fatto la giurisprudenza poi non è poi così cambiata. Ed è al via invece nel riminese a Pennabilli la 46esima mostra mercato nazionale di antiquariato. Andiamo a vedere. 46 anni di bellezza nella piccola capitale dell'antiquariato dal 9 al 24 luglio torna la mostra mercato nazionale d'antiquariato città di Pennabilli una rassegna oramai rodata che ospita ben 40 espositori da tutta Italia ma anche da alcuni paesi europei. Giannini l'inizio della mostra è oramai imminente cosa dobbiamo aspettarci quest'anno? Ci aspettiamo anche quest'anno un evento molto importante 46 anni di attività dimostrano la validità di questo evento dimostrano che è un evento valido, consolidato che è anche atteso. Ci saranno 40 espositori provenienti da tutta Italia da alcuni paesi europei che mostreranno il meglio delle loro collezioni quindi saranno presenti migliaia di oggetti di antiquariato ci saranno oggetti dal Medioevo quindi dal XII-XIII secolo fino ad arrivare al primo del Novecento oggetti che variano dalla scultura pittura mobili ceramica gioielli tutto quello che in qualche modo è arrivato a noi dall'antichità ci possono essere oggetti che possono valere anche 100.000 euro o anche qualche oggetto più semplice però semplice di qualità che può costare qualche centinaia di euro quindi tantissimi espositori tre piani in tutto di mostra ecco quindi diciamo che il tutto è all'insegna della storia della cultura nella storia della cultura c'è anche un evento culturale collaterale molto importante Ilario Fioravanti le donne di Ilario Fioravanti quindi scultura e pittura e quindi all'interno del Palazzo Rivieri che si può fare questo viaggio nel passato accompagnati da oggetti molto importanti su tre livelli il Palazzo Rivieri è climatizzato quindi non ci sono problemi neanche di caldo quindi è una visita a Pennabilli e alla Mosso Antiquariato che invito i tre spettatori di fare Ed ora una notizia giunta da poco in redazione la procura di Forlì ha chiuso l'inchiesta sulla cassa di risparmio di Cesena gli indagati sono 17 tra cui gli ex vertici amministratori sindaci e direttori generali in carica alla data del 13 aprile 2013 reati ipotizzati nell'indagine sono false comunicazioni sociali ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità di vigilanza e illecita ripartizione degli utili alla banca è contestata la responsabilità amministrativa Ed ora andiamo a vedere però altre notizie con le nostre brevi Il nuovo calendario venatorio 2016-2017 regionale vieta da ora l'uso di cellulari e di strumenti di comunicazione nell'esercizio dell'azione di caccia Il divieto mirerebbe a evitare che i cacciatori si avvisino tra loro in caso di presenza delle guardie venatorie Cesenatico ancora morto per valore in acqua e il quinto caso in una ventina di giorni la tragedia si è verificata questa mattina alle 10 e si tratta di Sergio Bagnolini 80 anni di rocco freddo l'uomo si è sentito male in acqua quando era a una decina di metri dalla riva inutili soccorsi Emilia Romagna la regione ha definito il piano di intervento urgenti per far fronte ai danni causati dalla forte ondata di maltempo accaduta a febbraio di quest'anno nella provincia di Forlice Cesenan saranno 7 cantieri per un valore di 600 mila euro mentre la vena 4 cantieri per 240 mila euro Modigliano un 52enne in sella di uno scooter si trova ricoverato in gravi condizioni dal Bufalini di Cesenan per un incidente il centauri si è visto tagliare la strada da un furgoncino ed è rovinato a terra dopo un volo di diversi metri seguiteci sul nostro portale tr24.it ora la linea alla redazione sportiva buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del TG Sport partiamo subito occupandoci di basket dopo ben 10 anni Simone Pieric è tornato ad essere un giocatore della pallacanestro Forlì l'Ala Goriziana dovrà dare un contributo di esperienza al roster bianco-rosso in servizio dal 2003 al 2006 sei stato un grande protagonista nella loro Fulgor Libertas torni a Forlì dopo 10 anni con tante esperienze di A2 e anche di A1 alle spalle Simone Pieric e la nuova pallacanestro 2.015 di nuovo insieme in Serie A insomma pensa che sia una grande emozione sì certo mi viene da dire finalmente perché è sempre stato un mio sogno tornare a Forlì in Serie A giocare per questa piazza perché so benissimo cosa si prova a giocare per Forlì quindi sono contento appena ho firmato avevo la pelle d'oca quindi sono veramente felice di arrivare in un ambiente come Forlì viene a fare la chioccia il che è abbastanza paradossale però tu conosci bene il campionato che Forlì invece affronterà per la prima volta con questa nuova società cosa serve per affrontare al meglio delle nostre possibilità sicuramente serve voglia di lavorare serenità perché ci saranno sicuramente momenti difficili durante l'arco della stagione quindi bisognerà rimanere tutti compatti giocatori pubblico società e rimanere tutti dalla stessa parte quindi speriamo bene che le cose vadano nel verso giusto e secondo me lavorando sodo e uniti si può veramente si può arrivare a qualcosa di importante Intanto colpo di scena sarà Serie B per i Tigers come vediamo sul portale Teleromagna24.it gli arancionieri del presidente Valgimigli hanno infatti acquisito il diritto di partecipare alla terza serie nella stagione 2016-2017 dalla Scafati 2014 curiosamente è proprio la società cugina di quella che aveva fatto saltare l'operazione nella giornata di mercoledì ora si attende solo l'ufficializzazione della FIP per l'ok definitivo ai fordivesi ma noi adesso ci occupiamo anche di Ippica sarà un autentico sabato da campioni quello che si andrà a vivere domani sera all'ippodromo del Savio scopriamo il perché nel servizio sabato da campioni all'ipodromo del Savio con il Gran Premio Riccardo Grassi a calamitare le attenzioni dell'Ippica nazionale su trotte e cessenate in pista otto celebrati prima serie anziani impegnati nella selettiva distanza del Miglio perla di una serata ricca di accattimanti spunti tecnici in tutte le otto sfide agonistiche in programma il Gritemen romagnolo si propone come una corsa estremamente equilibrata poiché priva di figure di secondo piano con il ritorno in rinviera della campana Smeralda Jet reginetta giovanile che ricordiamo vincitrice del Città di Cesena 2015 a suo esterno il Panzer Probo OP farà di tutto per ribadire spessore atletico e ambizioni di primato con Edoardo Moni alla guida mentre Sharon Gar e Pippo Gubelini paiono in grado di ambire al podio Radina Lester d'oregonistico permettendo sarà la probabile leader delle fasi iniziali con Stankovic ok ad incuriosire nella versione inedita che lo vede abbinato al suo train e Gennaro Casillo queste le candidature più accreditate ma non si possono certo trascurare Stanco Bivo ok con Gennaro Casillo e la regolarità di New York New York la duttilità di Peace of Mind ed il nuovo corso di un semiedo dalla invidiabile freschezza atletica tutti elementi questi che regalano pathos e creano notevoli aspettativi in ottica risultato con il record della corsa 1-12-2 di McGrace SM che pare dunque il serio pericolo e con questo è davvero tutto anche per questa edizione della TG Sport vi ringrazio allora per averci seguito arrivederci e grazie al nostro Andrea Zanzi ora le previsioni del tempo Buonasera a tutti i telespettatori di Teleromagna da Andrea Raggini la giornata di oggi ha visto il sole protagonista su tutta l'Emilia Romagna questo grazie all'alta pressione che ha interessato la nostra regione e continuerà a farlo anche per tutto il weekend infatti la giornata di sabato si aprirà con il sole su tutta l'Emilia Romagna i cieli saranno per lo più sereni o poco nuvolosi nel pomeriggio si svilupperanno ancora degli addensamenti soprattutto sull'Appennino dove localmente potrebbero formare veloci rovesci ma saranno davvero pochi le temperature saranno in aumento con valori minimi compresi tra più 18 e più 23 gradi mentre i valori massimi saranno compresi tra più 28 e più 35 gradi ventilazione per lo più debole con mare quasi caldo poi anche la giornata di domenica sarà per lo più soleggiata su tutta la nostra regione con solo qualche addensamento pomerigliano soprattutto a ridosso del nostro Appennino attenzione perché poi tra lunedì e mercoledì è previsto una intensificazione del caldo che porterà valori massimi di oltre 37 e 38 gradi sulle pianure centrali della nostra regione per ora è tutto buona serata ad Andrea Raggini siamo quasi in conclusione rivediamo i titoli di questo telegiornale della sera processo al via Ravenna per secondo merendi l'uomo è accusato di aver ucciso la madre Pia Rossini a Cotignola nell'aprile del 2015 24 rivie a giudizio sono quelli decisi a Rimini dopo la maxi indagine della Guardia di Finanza si vuole fare luce su una ipotetica evasione da 37 milioni Gli operatori ci sperano decisivo l'incontro a Roma tra Baggini e governo in arrivo una legge di riordino sulle concessioni demaniali La discarica va in Parlamento nuove polemiche attorno il noto impianto dell'Imo Lese il Ministero conferma poi rettifica l'inquinamento delle acque sotterrane Plautus Alvia a Sarsina tutto pronto per l'edizione 2016 della nota Kermes che porterà all'arena Plautina tante manifestazioni e big dello spettacolo Cavallo di ritorno per il basket presentato Simone Pieric che torna a vestire la maglia dell'Unieuro Forlì dopo dieci anni vissuti in giro lungo lo stivale Il segnalo questa sera su Teleromagna e Teleromagna News una nuova puntata di Ping Pong dal titolo Brexit su Teleromagna Sport canale 192 alle 21 invece appuntamento con Tutta Beach il format dedicato al mondo delle due ruote su Teleromagna e Mia canale 193 dalle 21 in onda la finale di Miss Suocera 2016 Un ultimissimo aggiornamento per quanto riguarda le notizie di quest'oggi torniamo sul nostro portale tr24.it con Antonio Patuelli che è stato confermato alla guida dell'ABI il consiglio che si è riunito oggi dopo l'assemblea annuale accogliendo l'indicazione unanime formulata a sensi di statuto del comitato esecutivo uscente ha quindi rieletto per acclamazione Antonio Patuelli presidente dell'ABI per il prossimo biennio adesso è veramente tutto grazie per averci seguito vi ricordo domattina la rassegna stampa alle 7 e un quarto in diretta e poi il telegiornale alle 14 alle 19 alle 20 e 30 grazie per averci seguito una buona serata SIC società italtecnica cesena da 30 anni specializzate in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati se voi avete un problema noi abbiamo la soluzione SIC e a Cesena in via Olivetti 85 zona industriale Pieve Sestina Infotec Infotec il partner HP in Romagna SIC SIC di SIC